Nella modernità, diciamo cento e qualcosa anni, l'arte è sempre stata visceralmente attratta dal concetto di urlo. Il più facile di tutti ovviamente è quello di Edgar Munch, un tramonto fin troppo aranciato per essere nella sua Oslo, un'immagine che aveva visto a Parigi qualche anno prima di una mummia inca e soprattutto quella sua anima a brandelli, il momento difficile della sua vita. È un quadro che comunque sta sempre con noi, per esempio, l'emoji del terrore, è lui, è l'urlo di Munch. E più recente? Alan Ginsberg, The Howl, l'urlo, una meravigliosa giustapposizione e contraposizione di termini lisergici, probabilmente scritti a tangeri sotto sostanze, un manifesto contro l'America del tempo e che ha un incipit folgorante. Ho visto le migliori menti della mia generazione. E noi? Ah no. Per noi italiani l'urlo del Novecento può essere uno soltanto. Marco al Bernabéu. Campione del mondo, bentrovato. Grazie. Sei entrato qua dentro e se la maggior parte di noi non sapesse che sei stato un grande calciatore, penserebbe che è un attore toscano, ha le spalle, la voce, la fisicità per prendersi il centro della scena e saperlo abitare. Ti rendi conto che sei percepito così? Non lo so, sinceramente. Non lo so, io cerco di essere quello che sono da sempre. E ti viene? Forse sono un po' migliorato perché col tempo io, essendo un toscano, ero molto permaloso. Dovete calmarmi un attimo. Però sono sempre stato così, molto timido, perché sono sempre stato molto timido e poi migliorato col tempo. Tu non nasci mancino, lo diventi praticamente? Io non nasco mancino perché io nasco tanto alla sinistra. Per un motivo molto chiaro. Per un motivo molto chiaro, sì, perché amavo Gigi Riva. Gigi Riva per me è stato uno dei più grossi giocatori italiani. Io ero destro e volevo fare la sinistra e ho cominciato a giocare solo di sinistro. Era all'oratorio, era agli inizi e piano piano ho imparato e sono diventato ambidestro. Uno che si comporta così è un uomo di eccessi o un lungimirante? Né di eccessi né di lungimiranza, se ne si tratta, io credo che fosse per amore di un giocatore. Per amore? Però è forte come tipo d'amore? Sì, è forte perché io volevo diventare come lui. Poi fra l'altro mi spostarono terzino, vuol dire che non ero capace di stare lì. Mi è andata bene comunque. Mi è andata bene. Quando in questa iconica corsa col cuore sospeso per eccesso di felicità e follea stai bruciando l'erba del Bernabèo con i compagni che cercano di prenderti ma non riescono a prenderti, è vero che stavi ricorrendo mentalmente parte della tua vita? Beh, un po' sì, un po' sì, devo dire. A parte non sapevo dove andavo perché ho cominciato a correre. L'andamento in effetti è preoccupante. Ho cominciato a correre e non sapevo cosa mi stesse succedendo. Sapevo di aver fatto una grande cosa perché credo che fare Go in una finale di un mondiale sia il traguardo massimo di ogni giocatore. Però ho ripercorso un po' la mia vita che è stata una vita proprio non da parte dei miei genitori, non aiutata a giocare a calcio perché i miei genitori non volevano assolutamente. Mio padre, che era una persona fantastica, lasciava fare mia madre e mia madre mi prendeva per i capelli, mi buttava via la roba da calcio. Cosa ti voleva far fare? Studiare cosa? Studiare, studiare. Loro erano come Checco Zalone, un impiego posto fisso e volevano che studiassi. In parte l'ho fatto perché ho preso il diploma di geometra per loro, in realtà l'ho preso assolutamente per loro, poi dopo quando sono andato alla Juventus. Chi mi ha aiutato molto invece sono stati i miei fratelli, i miei fratelli mi hanno molto aiutato perché erano tre giocatori, anzi due molto forti. Sono più grandi di te? Sì, tutti più grandi, io sono più piccolo. Ci si passava le consegne tra giocatori di club e di nazionale? Beh, io credo di sì, io penso che noi vedevamo, guardavamo i grandi giocatori, mi ricordo facevo il cameriere, scappavo dalla sala e non servivo i clienti perché c'era la partita del Messico, la finale del Messico del 70. Guardavo Riva, guardavo Rivera, guardavo tutti questi che sono stati dei grandissimi giocatori che tu volevi arrivare a essere come loro. Adesso non lo so. Ai sedici anni in quel momento. Era un'altra vita, era un altro periodo. Io studiavo d'inverno e poi d'estate andavo a fare il cameriere. Al gioco anche. Perché mio padre non è che avesse tanti soldi, anzi, erano pochi e mi diceva, ragazzo, io ti posso, anzi lui mi chiamava bimbo, bimbo io ti posso mandare a scuola, il resto lo devi fare tu. Era una cosa perfetta, ho amato molto mio padre. Su quella tua corsa a folle al Bernabeu credo siano state scattate, non so, 100 fotografie. Una diventa una magnifica affisce che se non ricordo male tu tenevi di fronte al tuo letto praticamente, volevi alzarti tutte le mattine vedendo quell'immagine di te. Dov'è finita l'affisce? O a Sara o a Nicola. A Sara. È andata Sara e l'ho dedicata a lei e a Nicola. Perché tu, Nicola e questo gol sono le tre cose più belle che hai fatto nella tua vita. Assolutamente. Come vivi il tempo? Tu hai vissuto forte nella tua vita e non smetti di vivere forte. cambi amore, non hai paura di amare e di essere amato? Non hai una ritrosia? No, anzi. Non lo cerchi? È una gran bella cosa. Lo so, però vuol dire anche… Spero di avere finito, anzi, ho finito. Perché prendi delle responsabilità, non hai paura della responsabilità? No, non ho paura di amare o di essere amato, poi la responsabilità, se te le prendi le devi anche mantenere. E oggi, in questo momento, in questo tempo della tua vita, che cos'è che ti emoziona? Ma, tanto mi emoziona vedere i miei nipotini che sono sorridenti e furbetti. Mi emoziona la nazionale ancora. Questa è la maglia della nazionale, per me è sempre stata la prima maglia. Non ho mai avuto una maglia nell'Inter, della Juve o del Pisa. Io non ero tifoso di calcio all'estremo, ero appassionato di calcio. Che è un'altra cosa. Perché era una cosa totalmente diversa. E quello mi è rimasto sempre nel cuore. La nazionale… C'ho due cose che mi sono rimaste nella nazionale. La nazionale è il Bersot. In Bersot c'ho anche un quadro a casa, dove lo tengo lì nella sala da pranzo. Questo mi sembra una cosa abbastanza… Uno dei motivi è perché vi trattava solo come calciatori? Perché aveva un approccio legato ai ragazzi che eravate? No, ci trattava come uomini. Come uomini. Era totalmente diverso. Infatti lui non ha mai scelto il giocatore, ha scelto l'uomo. Questa era una sua idea di un calcio diverso da quello che poteva partecipare a Pruzzo, diciamo. O perlomeno quella volta lì fu una scelta, secondo me, mirata a non disturbare Paolo Rossi. Perché se ci fosse stato Pruzzo, dovevi buttarlo dentro. Invece lui voleva che Paolo Rossi andasse avanti finché lui… C'è un'intervista durante il Mondiale, mi ricordo, con tutti i giornalisti. Lui dice, lui ha qualcosa dentro e non può non uscire. Bellissimo. E poi è uscito. Ma che bello è poter ricordare la propria vita attraverso episodi di questo tipo. È una grande soddisfazione, è bello ricordarlo. Purtroppo lo ricordo. Dai, smertelo. Grazie. Grazie.